Continua il precampionato dell'Irpinia, futsal femminile. Al palacardito di Ariano Irpino, domenica 3 ottobre sarà disputato un triangolare valevole per la prima edizione della PSB Cup. Parteciperanno, oltre alle Irpine di coach Luigi Battistone, anche Vils Fondi e futsal Rio Nero. Per Anna Lucia Braccia e compagni sarà l'ultimo test prima della nuova stagione sportiva, per le Verdi che le vedrà esordire la domenica successiva già nel derbissimo contro la Salernitana. Le Lupacchiotte quest'anno vogliono recitare un ruolo di primo piano in campionato, con l'obiettivo dichiarato promozione in A1, che ormai non è più un tabù. L'ingresso sarà libero, l'importante sarà essere in possesso delle certificazioni verdi, come da protocollo sanitario, e indossare la mascherina. Le Irpine, nei primi due appuntamenti precampionato, hanno battuto prima a Putignano la Virtus Cup San Michele per 4 a 2, grazie alla doppietta di Del Gaizo e le reti di Braccia e Linza. E poi, in ultimo, sempre in trasferta, la Nox Molfetta con il punteggio di 7 a 4. A timbrare il cartellino sono state Giussi Pogliese con una doppietta e l'ex bomber del Bitunto e top player del Gerone D della scorsa stagione, Brenda Moreira, che ha messo a segno un meraviglioso poker.